Andiamo subito a vedere quelli che sono i temi principali, direi due, da una parte le parole di intervista della Premier dove si parla e si dovrà parlare dei successi dell'economia italiana, dall'altra invece interviene sul caso San Giuliano, un po' questi due temi su cui oggi i giornali puntano l'attenzione nelle aperture e poi si torna invece a guardare il Medio Oriente con il durido monito che arriva dagli USA nei confronti di Antonio, fa poco per la tregua. Negli Stati Uniti, il macellaio di Gaza seppellito dalla protesta di Israele, una marea umana contro Netanyahu, pure Biden che gli vende le armi non fa abbastanza per l'accordo, ma il mattino di Puglia e Basilicato vi faccio vedere anche molto velocemente la scelta dell'apertura perché si apre con allarme della Corte dei Conti dell'Unione sui ritardi nell'attuazione dei piani, PNRR a rilento, obiettivi a rischio, in Italia si fa fatica ad utilizzare le risorse dei ricoveri, il 62% degli investimenti previsti dovranno venire finalizzate negli ultimi 8 mesi di implementazione del piano nel 2026, in tale periodo il nostro Paese dovrà realizzare il 28% degli obiettivi per ricevere il 19% dei fondi.